Come cena a Ferrara anche quest'anno saremo una delle parti principali del Festival e di Arci Ferrara. Noi siamo orgogliosi quest'anno di organizzare la cena di anteprima del Festival per oltre 100 giornalisti accreditati, giovedì 3 ottobre a ridotto il Teatro Comunale di Ferrara in collaborazione con la Stata di Vini e dei Sapori. Poi dal 4 al 6 ottobre in Piazza Castello organizzeremo un'esposizione in mercato di artigianato artistico tradizionale e alimentare sempre in collaborazione con la Stata di Vini e dei Sapori. Perché noi riteniamo fondamentale il Festival internazionale in quanto è una vetrina molto importante per il tessuto impeditoriale di Ferrara e provincia e riteniamo che sia quindi un'occasione per valorizzare l'artigianato della nostra provincia.